Emanuele Farinelli, Santa Maria La Palma, vendita umido e accessori, Italia, Cuba, Nicaragua, Repubblica Dominicana, Honduras. Il voto positivo del Consiglio ha permette di approvare la variazione del bilancio dei sessenti di 1.000 euro che permette lo strabalzo della ricostruzione del ponte di Fertiglia. Contribuzerà le famiglie che hanno subito l'incendio al parà del carri Vittorio Emanuele. E noi interveniamo al C.R.A. Approvato anche il progetto della protezione civile e il progetto di partecipare. Il bilancio e il cadastro di incendie buscosi. Di Sattelmaiti, il sindico Mario Bruno e l'assessore delle attività produttive, Ornella Piras, hanno incontrato i rappresentanti dei bulghi, passi avanti, impoltanti, per il progetto idrogeologico, basilar del progetto di conservazione e valorizzazione della bonifica dell'Aighe che ha preso l'approvazione a guardare il consenso della regione Saldegna. Una nuova immagine del palco di Porto Conte è stata selezionata per l'obiettivo terra-fondazione univerde. E' una mostra di a voi al palco della Nazione Unita a New York, unica per la Saldegna. La fotografia è di Giuseppe Esposito e tratta proprio di un tramonto Andrera dell'isola della Furarara. La mozzarella di bufala. Se è nobile, è meglio. Farinelli Fresco Market. Automobilismo. L'Algherese Fabio Angioi ha un prototipo radicale, ha guadagnato la dd9 edizione della Sereda Ittiri. Secondo il trofeo, Salvatore Casido. Valida con la dd13 e penultima prova del campionato, saldo di autoslalom. Trofeo Aido Sardegna, Patrizia Bigi, 2017. Iscriviti al caldo, Ho espero il momento in sensible. a voi una novità una curiosità tenza in rira alla prassetta partita che si trova là o dell'igresa di san francesco e aveva un altro po di agua fresca abbondante e buona che era domenica una donetta andava, puo' un po' di agua e preparava le bibite e le avevano succo, anis e anilina per farla diventare meglio e l'egola veniva al carri a questa donetta teniva l'unione di Cia Gioannica Mungeta grazie a tutti, grazie a tutti i ascoltatori, a tutti i amici catalans, a tutti i amici algeresi, algero channel, di voi an algerist, grazie, amus veura